Come riconoscere una crocchetta di buona qualità rispetto ad una crocchetta di bassa qualità? Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Pucci e sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il tuo amico a quattro zampe. Nel video di oggi ti mostrerò un esperimento che puoi fare anche tu in autonomia per capire se la crocchetta che stai dando al tuo cane è di buona qualità. Vediamolo insieme. Per questo tipo di esperimento quello che ci servirà sarà un recipiente contenente dell'acqua, proprio come quello che vedi qui nel video. Una volta che il mio recipiente è pronto con l'acqua, inserisco la crocchetta all'interno e attendo alcuni minuti. Se la crocchetta dopo alcuni minuti tende a gonfiarsi all'interno dell'acqua, questo indica che non è di buona qualità. Quello che dovresti andare a vedere da una crocchetta di buona qualità è quello che ti mostro ora nel secondo esperimento che ho fatto. Questa è una seconda crocchetta di ottima qualità che dopo alcuni minuti all'interno dell'acqua si presenta in questo modo, totalmente disciolta sul fondo dell'acqua. Quindi questa crocchetta non galleggia, non si è gonfiata e si è totalmente sciolta all'interno dell'acqua. Questo è ciò che i succhi gastrici del cane vanno a fare durante la fase di digestione. Quindi questa è una crocchetta altamente digeribile e di ottima qualità. Questa invece è una crocchetta di difficile digeribilità per il cane in quanto si gonfia e rimane a galla all'interno dell'acqua. E tu conoscevi questo esperimento? Fammi sapere che cosa ne pensi qui nei commenti. Ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.